Di quel continuo via vai i residenti di via Enrico Fermi, a due passi dall'ospedale maggiore, erano ormai stanchi. Persone che entravene uscivano a tutte le ore da quell'appartamento al primo piano di una palazzina per fare non si capiva bene cosa. O forse sì, considerato chi fosse l'inquilino dell'abitazione e soprattutto le facce dei frequentatori. Così è partita una richiesta di intervento ai carabinieri. I militari del comando provinciale del nucleo operativo radiomobile hanno agito con discrezione. Alcuni giorni di indagini e appostamenti, dopodiché sono entrati in azione. Dapprima hanno seguito uno straniero di nazionalità nigeriana che una volta uscito dall'appartamento si era allontanato in auto. Bloccato poco dopo, l'immigrato di 27 anni non ha potuto nascondere uno spinello che stava tranquillamente fumando. Messo l'uomo in stato di fermo, subito dopo è scattata la perquisizione nell'abitazione di via Fermi, che si è rivelata essere una vera e propria centrale dello spaccio. All'interno c'era un altro nigeriano di 24 anni, regolare sul territorio nazionale, disoccupato. I carabinieri hanno rinvenuto in camera da letto custoditi in un comodino. 125 grammi di marijuana suddivisi in 12 involucri, oltre a 810 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell'attività di smercio della droga. In più tutti gli accessori necessari per confezionare le dosi. Tanto è bastato per fare scattare le manette ai polsi del nigeriano. Rinviata la direttissima, il 24enne si trova rinchiuso in carcere in attesa del processo che si svolgerà a fine agosto. Guai anche per il suo acquirente, con precedenti per spaccio di stupefacenti. Il nigeriano era alla guida di un'auto sprovvista di assicurazione e in più il 27enne era senza patente. È stato denunciato e anche segnalato in prefettura per consumo di droga.